vediamo un po' se c'è qualche bella figa insomma non è possibile frattaglie da stampa ecco ecco che cosa siamo guarda cosa faccio adesso e adesso un omino non so perché l'ho fatto ma speriamo che dio stia dormendo che ti succede mafalda? c'è che ho fatto un omino con la plastilina e poi l'ho schiacciato ha detto qualcosa? non ha detto una parola era un conformista che stai facendo miguelito? sono preoccupato per la mamma questo è il diavolo bene vediamo da che parte bisogna cominciare a spingere per mandare avanti questo paese grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti